Entriamoci nella cosa sicuramente più importante in assoluto di questa giornata, ovvero dell'universo della magia si credeva che questo universo fosse appunto una nicchia, qualcosa di esageratamente emarginato, un qualcosa di bistrattato, un qualcosa da cui prendere le distanze, un qualcosa di contagioso, qualcosa per cui forse sarebbe meglio indossare una mascherina per proteggersi a debita distanza di un metro, forse vaccinarsi anche riguardo la magia, e invece oggi, nell'Italia del 2022, proiettata sempre verso di più un futuro disistopico alla Blade Runner 2049, vediamo che la magia invece è assolutamente ambita! Come scusa? Ma questo qua è Earthbound, credo sia Earthbound, credo sia Earthbound, attenzione Posso dire, posso dire che mi hanno rubato l'idea di questa guest star così a sorpresa, senza un motivo che sia mezzo, senza un annuncio, senza niente, mi hanno rubato, mi hanno fottuto l'idea Attraverso il draft della community della magia notturna, in cui a un certo punto giunge il boss, posso dirla questa cosa? Poi un'altra cosa importante, l'outfit, no, il cappello, mi ricorda un pochino, mi ricorda un pochino quello di Alvaro Vitali, c'è questa palla, no? Un pochino, una specie di coppola, con poi la palla sopra, solo che questo c'ha pure la visiera, e acquisisce una texture leopardata, che è lo step successivo ovviamente Provare dell'amore vera Chimica chichi 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 Involucente E non c'è un cice in buon ritardo se rimane Nelle suore me ne sbatto Chimica chichi 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 non so se è frado o è l'alcol ma sono tutta un calore in questo momento devo essere qui a ballare insieme a loro con Ferrari Prada è il culo di Cina Biondo quello che viene palpato aspetta, questa cosa è importante da comprendere è un frame troppo palesemente ma secondo noi quella mano la signorina se l'è mai più lavata quella mano tutti noi vorremmo essere quella mano eccola la Cina Chiappa ma che pazzo scusi ma non si possono fare queste cose nel 2022 guarda lo ha vinghiato manco fosse un ragavan che è la piovra attenzione pure il casquette d'altri tempi l'uomo è attenzione guardalo come limona è lui o non è lui qua ancora la gente non ci crede dice ma è lui o non è lui è lui o non è lui è lui o non è lui ma certo che è lui ottimo ah che bellezza ormai è diventato è lui è lui è lui la pripista è lui la pripista assoluto è lui la pripista assoluto per far integrare questa nicchia di questo mondo assolutamente bistrattato esiliato come Napoleone sull'isola d'Elba è lui la pripista è lui il Mosè che divide le acque rancide le nostre da quelle pure cristalline della società inclusiva dalla società normale abbiamo forse una possibilità noi anormali di normalizzarci attraverso questo questo profeta dovremmo fargli anche qualche domanda o qualcosa dovremmo chiedergli ma noi appunto poveri comuni telespettatori insomma dovremmo sapere cosa succede su un set come questo nel senso cioè è un film erotico o è un porno vengo e mi spiego erotico simula l'atto porno si esegue realmente ecco noi vogliamo sapere se Cina Biondo ha realmente inserito la sua lingua di due metri e mezzo all'interno della cavità orale della femmina della magia in questione lo vogliamo sapere oppure se ha solo finto so solo finto diciamo il limone in questione buonasera buonasera chi è il chi è scusi sono qua dimmi dimmi chi è chi è il cavallide la cavalcatura della magia italiana sono io sono io buonasera Cina Biondo è un onore averla qui dopo che ormai si è distaccato da noi orridi nerd sudati schifosi unti bisunti ormai fa parte dei vips della schiera sociale quella elevata Pasolini aveva ragione che Cina Biondo un giorno sarebbe divenuto uno dei poteri forti complimenti vogliamo sapere una cosa noi soprattutto ma lei la lingua gliel'ha infilata in bocca alla ragazza in questione io guarda da copione doveva essere tipo il bacio che si danno i due vecchi il bacio che si danno i due vecchi io non mi sarei mai permesso io sono una brava persona non mi sarei mai permesso però l'ha fatto lei io ho risposto alla trigger ah quindi lei ha inserito la e beh è chimica scusi la canzone si chiama chimica la chimica è chimica non è che si può comandare la chimica tra l'altro quella scena lì l'abbiamo fatta dieci volte quindi a me andava pure bene ah attenzione però questo è grave però questo è grave scusi lei ha goduto arriva un regista e mi fa scusa scusa e poi mette una mano sul culo ma sta certamente non lo so allora c'era un po' del me too e allora c'ho una paura di essere denunciato l'hai denunciato scusi ma se c'è il copione non ho capito e mi dice faccio io a posto ma scusi ma che pensava fosse un grosso bait un trappolone tutto fatto per lei pure la la rettore a un certo punto si sveglia e dice come facciamo per far arrestare Cina Biondo mi iscrivo a Sanremo faccio una canzone ingaggiamo Cina Biondo gli facciamo toccare il culo a una e lo arrestiamo cioè lo ricattiamo poteva mai essere no no poi è andata bene è stato molto divertente non l'hanno guerellata ancora ma un'altra cosa sapete che il dito nella piaga è Cugina di Camilluzzi come il dito nella piaga? è Cugina di Camilluzzi è la Cugina di Camilluzzi è tipo strettissima vero? è la zia è tipo la mamma di Dito nella piaga è la zia di Camilluzzi ma scusa ma questo è tutto ma è tutto in famiglia allora che cosa? mi ha fatto fare un figurone mi sembravo raccomandato perché una certa arriva questa e mi fa ah oh io eh perché poi da struccata non è così e mi fa ah oh io eh ma io noi abbiamo un amico in comune chi? Marco Marco chi? Camilluzzi sto male morto ma poi scusa un amico è suo cugino mica un amico sì per dire per dire abbiamo una persona in comune scusi ma quindi aspetta no no piccolacciate che erano tutte maggiorenni le persone tutte maggiorenni mamma mia ma lei ormai ma cerchi ma scusi non ho capito ormai lei non vive più nelle relazioni nelle cose ha paura a toccare le persone a stringere la mano tutte maggiorenni cioè come mette lei è perfetto per questa vita intresa di di politically correct ripeto la chat perché la lingua in pila me l'ha messa quella lì io ho dovuto rispondere alla pila risolve ma aspetti tra l'altro gliel'ha messa in bocca più volte tipo dieci volte ha detto è successo è successa questa cosa ma adesso è un po' violato infatti la domanda sorge spontanea quando la denuncella la faccio io la domanda sorge spontanea lei intanto il suo orientamento sessuale è eterosessuale? al momento sì al momento sì perfetto allora sa no la canzone si chiama chimica ha capito dove voglio arrivare cioè dieci volte le piaceva questa ragazza come sembrava? avvenente era una paperella una paperella una paperella? no nel senso una bella paperella una paperella scusi che cos'è? chi ci fa con gli animali? è un modo di dire è un modo di dire ah ok no non avevo mai sentito una bella paperella no però io volevo chiedere una cosa ma nel momento in cui nella scena vogliamo sapere se è successo qualcosa diciamo nella parte sottostante del suo corpo in che senso? ah eh c'è stato qualcosa c'è stato un movimento quando quando la gigante carro più gigante colossale una certa no vabbè ma si è imbarzottito un po' vogliamo sapere questo il durello voleva essere più professionale ma che vuol dire professionale ma l'è venuto o non l'è venuto la chimica è chimica scusi il rettore è successo è successo ottimo attenzione comunque il set aiutava tanto perché sembrava un set un po' più in porno poi eravamo sempre lì a giocare con i lacci cose manette attenzione come avete visto nel video quindi 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 c'è una scena in cui possiamo zoomare la parte e vedere vedere come dire protuberanze no perché perché alcune alcune parti del video sono state fatte di proposito in cui si vede la protuberanza mi sembra un signore anziano sì sì c'è il signore lì con il baffone è troppo bello ecco il signore tra l'altro dica dica il signore col baffone l'altro signore anziano amica ci hanno provato dieci ore con questa qui poverina era spissiata perché sbagliava dopo questa scena qua non hanno più cagata poverina vabbè questi stanzi sono concentrati su di lei l'ho vista abbastanza scatenato sciolto ballava faceva le facce ma poi come l'hanno vestita mi ha ricordato subito Earthbound NES io invece mi sono ricordato un po' Carlton e un po' Squid Game vabbè Squid Game però il principe di Bel Air sì 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 ce l'ho presente è chiaro quello che fa quel balletto meraviglioso però mi hanno tolto la scena in cui ballavo la Carlton maledetto vero mi tenevo ma l'hai improvvisata tu eh sì grande eh sì sì ma guarda che era fighissimo e lo so è arrivato sto regista che arrivava faceva tipo eh ma devi capire che io faccio le cose non all'italiana sembrava stani sull'altro chef io ho ho visto sette anni in Inghilterra vabbè mamma mia terribile ma che fa disse il regista che l'ha fatta diventare una star una cinastar poi poi la pallina in bocca mi fa ma perché non te la vuoi mettere ma tu vuoi fare l'attore nella vita tipo perché gli altri erano tutti attori veri no io gli faccio no io sono qua per il meme e niente l'ho spiazzato completamente non sapeva cosa dirmi appunto secondo me è meglio ancora appunto se dici no non me ne frena un cazzo devo fare quel cazzo che volevo perfetto tanto o mi cacciavi e a me non mi frega un cazzo o stavo lì e mi facevo quel cazzo che volevo infatti mi sono divertito bo no tutte le persone sono super tra e Donatellona cazzo vabbè Donatella l'energia è rotto è rotto però poverina cazzo non si muoveva gli hanno messo un tacco di 6 metri e secondo me se cadeva morivo ma qua chiedevano in chat precedentemente perché già abbiamo fatto la reaction del video in realtà ah com'è piaciuto gli è piaciuto ci è piaciuto molto ci è piaciuto molto e chiede la chat ha scritto un sacco di cose tra cui spiccava spiccava questo commento ma gliel'ha spiegato come funziona il cobra no lei gliel'ha spiegare il cobra il 2-1 mamma mia gli devo spiegare le battute quello con l'handfall che doveva portarsi il cobra gli doveva portare un cobra oppure se lo doveva fare firmare l'erettore dai che misplay è che cazzo di misplay è cazzo non ci ho pensato è vero è vero cobra firmato ce li ho pure belli i miei cose d'autoscopra quindi era proprio una figata una bella rettore bellissimo oppure delle lamette si poteva fare firmare insomma qualcosa esatto esatto poi comunque io penso che i miei persone fossero imbarazzati quelle degli altri erano peggio vero il ragazzo lì di colore era imbarazzato ma sono attori che si imbarazza che cazzo si imbarazza gli attori sono presi dalla strada lui non sono professionissimo vittorio de siga il regista chi era almeno io si ma sai com'è stato il mio casting no quella che mi aveva contattato per rovarti che ogni tanto mi tampina per fare dei programmi che non voglio fare dei programmi televisivi si anche si ma accetta che cazzo fai accetta tu tutto no ma alcuni sono proprio brutti quelli con la famiglia io non ho la famiglia che mi seguo e fa programmi con la famiglia e poi avanti un altro avanti un altro quello è bello quello è bello ma quello e non ce la fai ce la fai c'è una lista d'attesa lunghissima c'è una lista d'attesa l'invida del tor si si io sono l'invido si devi passare per attenzia io si certo che sono invidioso ovvio qua mi dicono che sono invidioso assolutamente sì allora zi devi fare devi ballare un po' e poi dare un bacio sulla guancia sta qua ma guarda le foto proprio un bacio sulla guancia scusi da copione ce l'ha scritto così ma scusa sentiti ma se invece da copione ce l'ha scritto bacio sulla guancia ma se nel copione ci fosse stato scritto bacio in bocca scusi dove gliel'avrebbe dovuto dare questo bacio scusi eh esatto esatto io volevo seguire il copione infatti ripeto sono stato violato da queste cose mi sento beh ma ci ha fatta amicizia poi con la ragazza dopo questo momento di intimità forzato no no sì sì dai sì dai ma esisterà no ma poi poi cioè quell'ambiente lì aiutava tanto a fare amicizia diciamo certo 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 è ovvio ovvio ma vogliamo sapere un'altra cosa non scopo più un gossip ma ci può può esistere lei è fidanzato in questo momento intanto è impegnato stavo sapendo eh no non sono impegnato ok ma se le interessa la signorina la essere single non è poliomorosa eccetera potrebbe come dire potrebbe succedere qualcosa cioè esiste c'è una chat privata dopo quel video esiste chi l'ha detto che non l'abbia mai scritto no no sto dicendo che dopo tra l'altro il timing è stato veloce dopo giovedì scorso mi hanno registrato il video ecco no no perfetto infatti io mi chiedevo chiedevo appunto c'è esiste una chat privata continuata dopo quel dopo quel video oppure no questo sì dai sì 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 attenzione cina scoop ottimo 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 sì tra l'altro i vostri voli pindarici va bene va bene sono un bravo ragazzo non mi permetterai mai di esagerare complimenti 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 per la rettore complimenti per tutto però a questo punto si poteva fare invitare a Sanremo no cazzo ma non c'era un modo ma poi quelle lì ma poi quelle due lì minchio metà delle views glielo avrò date io soprattutto su da twitter che non le cagava nessuno minchia manco un retweet vero persa niente non t'hanno cagato minchia che me c'era minchia scusa e siete l'ultimo anello della cadena tu youtube c'ha meno iscritti di noi però ha più visualizzazioni il video in questo momento minchia è un botto 160 mili se spendiamo anche anche il rete 100k per fare un video ti assicuro che facciamo le views anche noi 100k dice vabbè dice minimo vedi allora lo staff c'è la regista 5 camera no 6 cameraman due editor due truccatori due customisti la rettore che sicuramente non è che fa le cose gratis due fonici vabbè il video era per lei aspetta il video era per lei quindi no il video era per la cantante emergente ah è per la cantante emergente ah è per la cantante emergente ah è il featuring il rettore esatto gli hanno affiancato la rettore infatti quest'anno fanno così per Sanremo affiancono le le mummie come le mummie no non è vero povera rettore ma scusi lei ma lei lei ci andrebbe con la rettore sinceramente no però le piace la carne giovane fino a 20 anni fa sì a 20 anni fa però lei scusi quant'anno aveva la cina abbiamo avuto 10 anni la arrestavano a lei scusi vabbè nel senso lei è 20 anni fa io odio adesso con lei è di 20 anni fa lei è di 20 anni fa quindi fino a adesso quanti anni c'ha la rettore ma che 70 anni no che 150 ce l'avrà a 66 anni quindi fino a 46 anni se la colla dai sì care 46 anni in chat femmine della magia notturna 46 anni che giocate con le figurine che avete di mistichezza col cobra bene sappiate che c'è un possibile come dire buon partito tra l'altro intricato ormai nel mondo dello spettacolo la rai cosa amate questo fiorello eccetera beh complimenti complimenti bellissime esperienze immagino molto divertente sì mi sono divertito un botto tutta la giornata così mi sono divertito un botto bello 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 complimenti complimenti di nuovo vivissimi seguite Cina Biondo sul canale youtube BMG Italy 21esimo hashtag 21 on trending di dito nella piaga il rettore chimica lo trovate lì ormai Cina Biondo ha spostato è andato in tendenza davvero sì sì è 21 numero 21 sei in tendenza che deve fare questa cosa com'è come dire come raggiungimento di un obiettivo sei finito in tendenza per la prima volta non sul tuo canale youtube dopo che fai youtube da anni da due è emozionante speravo che in realtà non lo vedessi nel nostro video sono sincero e invece la mattina mi ha escloso il telefono però ragazzi alcuni erano timidi mi facevano ma non vorrei essere razzista tipo metà di mezz'antica non vorrei essere razzista ma che sui sei tu eh sì sono io certo ma metà così è bellissimo generissimi ragazzi non mi offendo non mi offendo anche se vi confondete con altre persone non mi offendo sì vabbè però c'è questa cosa no sono tutti uguali che poi è vera sta cosa nel senso che cioè ma anche anche viceversa funziona così cioè gli orientali hanno difficoltà a distinguere noi occidentali l'uno dall'altro è proprio una questione proprio di appartenenza di territorio proprio non sono non sono abituati semplicemente non siamo abituati e quindi ci confondiamo che anche noi abbiamo tratti simili cioè non sono i cinesi che sono tutti uguali che? Cina lingua da cobra vabbè qua la chat ovviamente si diverte un sacco molto contenta non ci credeva inizialmente che fosse davvero lei vabbè complimenti bravo ha vinto lei Sanremo quest'anno performance con la ballerina come ero? ottimo ottimo un gran ballerino professionista no no fantastico veramente bellissimo poi tra l'altro il video è molto bello quindi non mi stupisce il fatto che sia però sono sincero adesso vi dico una cosa proprio di sincerità ovvio perché questa tv verità sì io ci faccio queste robe qua anche per come diciamo shock perché ultimamente mi ero un po' chiuso un po' introverso invece così proprio mi forzo a fare cose ma perché che è successo? è successo qualcosa? no no hanno detto hanno parlato di depressione qui in chat quello è un po' quello è un po' too much però a volte vado un po' giù per altre cose per altre cose però adesso mi sono ripegliato il brutto vabbè vorrei vedere il cazzo mi ha palpato lei e mi sono sentito io no scherzo il cobra non è il serpente vabbè comunque vorrei vedere insomma se era un po' giù si è tirato su attraverso diciamo dieci slinguazzate della suddetta signorina che potrebbe averle come dire mandato un messaggio attraverso in realtà le persone nel mondo dello spettacolo spesso e volentieri poi si accoppiano in tutti i sensi con altre persone sul mondo del mondo dello spettacolo ma dici che ormai sono dentro quel mondo lì beh secondo me sì cioè sul set si fanno appunto queste scene no che ne sa magari ho un canale youtube lo sai come? faccio ho un canale youtube lo sai sì adesso non so sembrano ricchi tutti youtuber sembrano ricchi no? non è così? sì certo beh appunto ve lo dice quanti visualizzazioni hai? io gli dico ho più iscritti della di dito nella piaga che è vero ma veramente no è vera sta cosa dito nella piaga è vasto c'ha tipo 2000 iscritti ah vabbè pure io ho più iscritti del di dito nella piaga appunto ne ho fatti 4000 da poco oh shit vabbè fate un applauso in chat attenzione che ti sto raggiungendo attenzione 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 che ti inseguo ti inseguo io ti aspetto allora ci può dire l'ultima cosa l'ultima indiscrezione dimmi dimmi tutto che sapore aveva la bocca di questa ragazza no ma in realtà eravamo talmente pezzati dopo tutta la giornata che vabbè ha capito non è che c'era la lingua sudata no dico aveva un sapore cioè era buon l'alito no tra normale normale vegetariana quella lì vegetariana e quindi ha percepito un gusto vegetale tipo di verdura di insalata di aceto balsamico di modena e invece lei ce la biondo come si era insaporito la bocca prima sempre perfetto con il lotus scopra con i ragazzi mi puliscono la bocca no che cosa fa che cosa usa per per un alito perfetto cia biondo no in realtà sono andato abbastanza tra cioè non avevo niente non c'era manca una cicca però non abbiamo mangiato tanto ma se le ha lavato i denti prima di uscire di casa ma lei minchia si la mattina si aveva mangiato però aveva mangiato nel mettere poi dopo eh ma anche lei però anche lei non si è lavato i denti bellissimo cia biondo che mangia che cazzo si è mangiato un kebab e poi gli infila la lingua in bocca quella ottimo come? c'era cazzo ring c'era pessimo manco una chewing gum prima ottimo però un kebab con la cipolla sarebbe stato molto molto chato ottimo però anche così secondo me è molto chato no bellissimo bello easy ma poi anche perché io volevo seguire il copione cioè io non dovevo fare niente è rimasto spiazzato ma si è è stato un po' più bello ma si è arrossato si è arrossata la sua faccia quando ha scoperto questa cosa cioè come l'ha vissuta a livello emozionale si è imbarazzato è successo qualcosa no è stato un po' un microsecondo che cazzo va questa va bene grazie va bene grazie signor cina biondo lei ormai una star boh ci metta una buona parola pure per me che le posso dire quando vuole quando vuole ci metta una buona parola anche per me per qualche video ho un amico che vorrebbe farlo tra l'altro ragazzi mi hanno pure pagato eh non pagato però non ce lo può dire che ce l'ho pagato no quello non si può dire però non male ma perché non si può dire scusa eh dai brutto dai ma no ma com'è brutto prima dice che dà della mummia alla rettore e poi dice che è brutto e poi dice che è brutto ma no 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 non si può dire no 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 500 euro dai 500 euro in centinaia dai dico così in centinaia dai 300 euro 300 quindi posso dire che sono di più o di meno di più o di meno di 300 non posso dire manco di più o di meno può dire no no non si può dire pessimo pessimo vabbè meno di mille sicuramente meno di mille vabbè ha detto centinaio vabbè 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 meno di una scimmia anzi meno di quattro scimmie no più di quattro scimmie più di quattro scimmie attenzione i cavalli così in codice non capiscono un cazzo quelli quindi è perfetto esatto ottimo 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 va bene buona serata complimenti a rivederla grazie a rivederla grazie a tutti Grazie a tutti.